bonjour stiamo arrivando anche a ginevra con il sogno dell'italia che è proprio lui il nostro nuovo spettacolo e saremo al casino che ha il 5 di aprile 2016 non potete mancare anche perché parla e soprattutto canta lui che non sembra lo sapete benissimo a ginevra questo è uno spettacolo un po diverso uno spettacolo che racconterà vent'anni di storia d'italia sono anni pesanti sono anni difficili anche quella divertente quindi qualche risata da farete ma pure qualche l'anno ci vediamo a ginevra ragazzi aspettiamo a